Musica e Musica è una manifestazione nata 19 anni fa ed è una manifestazione che è cresciuta costantemente nel tempo fino ad arrivare ad un ottimo livello di rappresentazioni, di concerti e anche altre manifestazioni. Musica e Musica si svolge chiaramente a mercatello sul metauro e adotta una serie di location nel paese molto suggestive a partire dalla chiesa San Francesco fino ad arrivare alla porta a metauro fino ad arrivare al giardino Donati cioè sono tutte location molto interessanti e molto belle. La manifestazione ripeto è fatta di concerti, di opere, di rappresentazioni importanti quest'anno sono otto rappresentazioni che vanno dal 29 di luglio fino al 19 di settembre. Sarà un momento molto importante per noi perché ospiteremo un Salon Rossini con i cantanti dell'Accademia Rossiniana Alberto Zedda e questo ci onora e ci fa molto piacere perché è anche un riconoscimento per un'attività che abbiamo fatto in tutti questi anni. Sarà un festival spumeggiante, un festival brillante e grazie alla presenza di vari generi musicali passeremo dalla classica al jazz, dal bel canto all'evoluzione dei batteristi e ci accompagneranno in questo anche tanti giovani talenti internazionali che faranno mercatello, svolgeranno mercatello delle residenze artistiche in questo periodo. Infatti luglio, agosto e settembre sarà anche un mese di residenze artistiche e di workshop in cui praticamente avremo la presenza di questi giovani talenti che studieranno, approfondiranno la loro formazione musicale e realizzeranno molti concerti. Sarà un festival che si svilupperà dal 29 luglio fino al 19 settembre dove ci sarà uno special event con dei concerti proprio itineranti nel borgo. Un paese bandiera arancione, uno dei borghi più belli d'Italia dove noi cerchiamo sempre di portare la musica nei palcoscenici, come diciamo noi, naturali del suo centro storico per mettere in evidenza anche le bellezze del nostro paese.